bestia che frecce, bestia che frecce, 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 frecce e che siamo tornati in inverno. Ciao Alissa! Come stai Alissa? Ma solo io sento freddo? Lunetta tu? Hai freddo, no? Stai bene? Ok. Genni Belli. Allora, tutto ok? Si. Ele Noir. Ciao Davide, buon sabato a tutti e tre. Grazie anche a te. Sara Etta. Buongiorno Davide. Oggi digiuno? Si, oggi inizia il Ramadan. Alissa, se è vero, era troppo bello che primavera fosse già così bella. Bella Omar. Io l'ho saputo dalle storie di mia nipote. Se Sara è musulmana, bene. Ci ha detto, così ci ha informato che oggi inizia la madame. Susette, salve Davide Luciana. Buon salotto da nonna a nonna, buongiorno. Buongiorno, ho fatto fatica a parlare oggi. Eh vabbè scrivi, non ti preoccupare. No, nel senso che mi fa male il macello. Tanto? È abbastanza. Si è ingrippato qualche nervo, giuro. Chiudo male. Aiuto. Devo aver fatto qualcosa. Allora, buon di Giarda. Poi, Susette, ieri sera ha seguito tutta la red di Luciana. Chi? Susette. Si è vero, è stata carina fino alla fine. Pensai che ti volevo bannare a te. Povero Susette. Scusami eh, avevo un'intenzione. Allora, Jenny Belli, ciao Luciana. Il programma da tempo. Noir su Luciana è stata bella la di ieri sera. Grazie. Barracuda, hola frate, signor, ciao a tutti. E che siamo al mercato. Frate, vieni qua, cantati. No, è troppo simpatico Barracuda. Carlo. Ciao Davide, posso dirti una cosa? Ti giuro, mi hai fatto piangere. E stringere il cuore. Carlo. Sentiamo, per quale motivo, scusa, cosa avrei fatto io? Che emozioni. Aspetta che adesso arriva la supposta eh. Che emozioni Carlo. Cominciamo con le lacrime oggi. Brava, anche te, perché Carlo giustamente? Perché? Oh Jenny, ciao cara. Sentiamo, per quale motivo? Allora, buon poveriggio Federico. Adesso devi scrivere un papiro Carlo. Scusa se rido ma mi fai ridere. Federico, buon poveriggio. Comunque ragazzi. Altro che la primavera, qua ho fatto il retromante. Ah ecco, Davide hanno pubblicato il tuo pezzo dove... Incantate in telecamera. Sembrava che avessi... Persuiscenzi. Ma sai che cosa Carlo? Qua è proprio le persone. Probabilmente se è incantata la telecamera e la gente proprio perversa di cervello, ecco che ne approfitta per buttare in giro fango. Ma poi quando, scusa eh? Perché tante volte... Forse è una tua live, no? Che hai fatto. Ma io tante volte ragazzi, giusto modo, do anche questa spiegazione. Non è che io sono incantato, io rimango così e dentro di me leggo quello che scrivono gli utenti. Prima che magari arriva un'assicurata e io volontariamente la vado a leggere. Ma tu non guardare più gli utenti che riguardo io. Tu pensa a far sveglio, non visto che dicono che dormi in piedi. Non neanche più da dire, guardate. Probabilmente lui è ancora nel letto. È un'immaginazione quello che lo vedete qua. Per cui lui sta dormendo ancora. Se l'ha sdraiato. Ele Noir, vabbè, ah sì, era nella live intitolata... Ah, quella lì proprio? Impossibile. Quella lì l'abbiamo fatta... Ah, io gli ho detto tutto a posto? Eh, Carlo scusami, ma tu sei, guarda, anche tu del gruppo. Ma se quella lì l'ho fatta in difesa di mia moglie e un po' si è rincantato. Eh beh, no, ma siamo noi che ti sovrazziamo. Direi che fanno parlare... Vabbè, andiamo avanti dai ragazzi. No, direi Carlo fai una passeggiata perché hai bisogno tu di respirare un po'. Aria pulita, vai Carlo. Allora... Eh, guarda, ci sono già qua io così. Vai nonna. Calma e gesso, buon pomeriggio! Allora... Come sta il calma e gesso? Ma quel gesso non lo togli più? Ah, che battuta! Chi è che parla mai di calma e gesso? Carlo, scusami, ma... Eh? Luciana, ve lo giuro, sono mio... Carlo, eh, guarda, io non neanche più la forza di replicare con te. Mi piace. Allora, calma e gesso anche te sei in piena pulizia. Prima vevi... Allora... No Bernarda, non è che ho paura che prendi il posto. Ho paura che ti esprimi per quella che sei. Ecco, di fatto hai fatto bene, Davide. Allora... Ciao Ludovica Borsi, esatto. Cosa ha detto Federico? Carlo, guarda, tu non mi piaci a pelle, guarda. Evidentemente esiste questa reazione di pelle. Come noi siamo odiati a pelle, tu mi sei proprio antipatico. Stai calma, stai calma, stai calma. Vai Carlo, non mi piaci niente. Ma cos'è che dice Federico? Altro che è un buonista questo. Non è un buonista. Questo è un partigiano di quelli che so io. Vai Carlo. Allora, ho tirato fuori la scala per grandi pulizie. E dopo passi di qua, calma e gesso allora. Dai ragazzi. Federico ha scherzato sull'epilessia. Cos'è che ha detto Federico? Federico dice ai geni, infatti non l'ho detto io. Dai ragazzi però, su. Allora, cosa fate di bello questo pomeriggio? Che secondo me è un pomeriggio inverno e non più primaverile. Quindi freddo che fa ragazzi? Bravo Federico, replica a chi non dà retta. Allora, oggi fa freddo ragazzi. Lo vado avanti a ripetere finché non esce un po' di sole. No, questo allora comincio a dubitare che effettivamente ridonde la parola adesso. Dai. Perché continui a dirlo? Cosa? Oggi fa freddo, fa freddo. Che freddo che fa? Eh, così. Eh no, così vi lascia. Allora. Ah, fatto bene. Saman. Eh, brava Luciana. Beh ragazzi non mi raccontate cosa fate? Cioè, quante persone lavorano anche a sabato? Alzate la mano, il dito. Ma sai che io sono convinta che sia domenica oggi? No, Luciana. Ma sento come una domenica. Una domenica qualsiasi. Sai quelle domeniche? Noi oggi. Tiene di niente. Noi oggi. Noi oggi lavori. E il sabato è una giornata dove si lavora il doppio quasi. E nel noir Davide che serie tv io come moglie nessuno al momento. Bravo baracuda. Io stasera ho un compleanno finalmente niente dieta e mangio pure la torta. Bravo baracuda. Ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Un giorno. Ape malefica. Ma anche tu lavori. Di notte. Francesca mia, buon pomeriggio. Lavoro anche di domenica. E ragazzi, ormai non c'è più il sabato e domenica da stare a casa. A parte negli uffici. Però ormai è così. Allora, sapete, qui in Sicilia c'è una giornata stupenda. Un sole proprio primaverile ci sono già gli alberi in fiore. E per i negozi di frutta ci sono le fragole. Ma anche qua le fragole. Forse devo andare a Spagna, le nostre di Milano. Non lo so perché noi le abbiamo trovate a Lesserunga o a Lipper. Allora Cristian Mariano i commenti li lasciamo a chi commenta. Hanno il tempo che trovano. Poracci, poracci. Ecco, ti rispondo io, va. Ciao mamma. Ma come hai capito? Ma che cosa Daniele? Ma tu sei la settimana ellinnistica per me. Ma che cosa? Ma cosa hai capito forse? Ma che cosa mamma? Lei sentiremo il momento. A raccogliere funghi. A raccogliere funghi. Cara Papperina, cartopazza. A raccogliere funghi. Così le aggiungiamo a che spirito. Vai cara, vai nasconditi. Allora. Di fatto è un po' criptica. No, criptica. Criptica. Criptica che è un po' misteriosa tua mamma. La gente, eh? Daniele ti banno io, se continui così. O il mio telefono mi spieghi. Allora ragazzi su dai ditemi cosa fate. Non parliamo di frago perché ritorniamo sempre a parlare di mangiare, eh? Ecco, Luciana cosa stiamo mangiando? Una cranella per sciogliermi i muscoli. Perché veramente sono ingrippata. Oh, qua. La mandibola tutta incastrata. Dai, dai ragazzi. Dai, 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 dai. Mi sto soffrendo perché non vorrei dare l'illusione che sto tirando gli urti. Dai, Luciana non dire queste cose per favore. No, perché ci vuole. C'è questa speranza. Vento d'estate. No, qua è vento d'inverno invece. Ciao Davide, ciao signora Luciana. A voi piace più il mare, la montagna? Il mare. Sicuramente mare. Mare, mare, mare. Quanta voglia di... Donare. Na, na, na. Come state oggi previste altre... Natale, Anna. Aspetta, 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 aspetta. Non hai chiamato? Ho chiamato il papà. Adesso quando viene a casa ti riporterà i miei saluti. Ah, ecco la mamma. Vedi? Questa è la conferma che chiama sempre e parla sempre con lei. Che ne si dica? Soprattutto i pettegolini che ne parlano così male. E oggi si vede che la telefonata è stata intercettata dal papà, no? Eh sì, perché ha chiamato mio padre. Brava Daniele. Involontariamente hai dato prova che quel che dice Davide è vero. Non c'è questa distanza con i suoi genitori. Allora, Rosi, buon pomeriggio dai di signora Luciana. Io ho appena mangiato un quarto di colomba. Sai che non ho ancora visto la colomba. Mi sento abbastanza in colpa ma neanche troppo. Perché? Neanche troppo mi piace. Brava, mangio anche l'altra. Finisci la colpa. Finisci e basta. Così almeno da colpa per colpa almeno hai fatto qualcosa. Meglio fare un danno grosso. Roberto M. Buon pomeriggio a tutti. Non scrivendo da un po' sono stata male. Sono ancora così così. Mi dispiace che sia stata male. È ancora per il Covid lei credo. Allora, ma poi se Davide chiama o no sua madre saranno fatti loro. Bravo. A noi che interessa. E comunque quale diritto dovremmo andare a giudicare oppure puntare il dito. Bravo. Era troppo buona. Esatto, signora Luciana. Brava, Rosi. Dico di mangiarla tutta. A me la colomba non piace onestamente. E a me piace invece. A meno che falcita ma così no. No anche così. Dai, beh. Ragazzi abbiamo ancora il Pandorola. Mamma mia. Saluta Margherita e Giuseppe. Ma tu la Chiara non la vedi Margherita? Io non la vedo. Mamma dice ora ce n'è un altro che la rompe. Un'altra che rompe. E chi è Daniela? Chi rompe? E chi è? Chi rompe paga. Daniela ricorda. Chi rompe paga. Sì, Gianni Belli. Secondo me la colomba cambia il significato ma secondo me è quella al panettone. La colomba è pasquale. Il Pandor è natalizio. L'influenza c'è in giro anche. Pensa a te, povera roba. Ma guardate qui il tempo. Fino all'altro ieri c'era il sole che spaccava il pavimento. Poi da ieri è iniziato a... No, dall'altro ieri è iniziato a cambiare un po' il tempo. Infatti adesso penso. Adesso che ci avviciniamo a Pasqua cosa farà? Adesso ti ricordi? Ecco, tu Covid invece. E io sai che non me lo ricordo ma mi dispiace. Simona... E chi è Simona? A me lo chiedi. E no, ti chiama Amore? Appunto che l'ho bannata. Amore mi può chiamare solamente mia moglie e mia mamma. E se vuole anche mia suocera. No, io non ti chiamo Amore scusami ma... Diciamo con amore magari ma non amore. Un utente ha detto della... Sì mamma non ti preoccupare. Grazie ma lasciamo perdere. L'ignoranza lasciamola proprio accantonata. Adesso alzo il tombino. Prendo lo spazzolone e rimuovo anche un po' di ignoranza che c'è lì. Davide qui a Maranello in provincia di Modena c'è nuvoloso l'aria più fredda ma non piove. Aspetto con assia tutti gli anni la mitica estate. Eppure io. Beh ma guardate che ieri per dire in Vienemunza ha grandinato. Qua ha piovuto proprio poco poco proprio nel momento che sono sceso io. Ma questi sono dettagli. E non sono particolari. Perché tu e piove. Rientro in casa e piove il sole. Che sei proprio... Che porta... Spiritosa. Sì. Vabbè che siete che hai detto ma questi due gocci tanto sei portando dalla patumiera. A Roma nevicato. Ma dai a grande in atto. Nevicato mi sembra di no. Perché non ci arrivate nessuna notizia. Anza da Roma. Vabbè che però aspetta. Può essere. Perché per dire Milano in un punto nevica nell'altro no. In un punto grande. Nell'altro piove. dove il nostro corrispondente non c'ha neve. Ah stanotte dice. Ah ecco stanotte. Però si vede che ha fatto proprio poco eh. Perché noi notizianza... Perché sennò mia moglie prendeva e partiva per Roma eh. Per la neve eh. Federico finalmente oggi mondo convenienza dopo un anno di attesa. Mi ha consegnato la cucina un anno di attesa. Eh ma sai perché Federico? Adesso. Prendiamo un attimo la cosa seria. Eh. Ricordiamoci che c'è di mezzo una pandemia e quindi eh. Da noi è diluviato vento temporale. Eh vedi qua no. Qua ieri sera sembrava. Perché infatti. In Bar Susa ha nevicato cavoli. Stavo dicendo che per la cucina ti sta andando anche bene. Perché comunque eh. C'è gente che sta ancora aspettando. Però non parliamo l'importante che ti è arrivata. Vedete da mia mamma diluviato temporale. Qua ha fatto un tuono. Ma poi basta eh. Siete che voleva. Che l'hai sentito solo tu Guaredo. Io non l'ho sentito. Non l'hai sentito? No. Ma non era forte. Era proprio. Ma che ora? Ma stavi facendo la live. Ah beh allora. Era tutta d'altro tempo presa per altre cose. Vabbè. Da te a grandinato. Sono a casa con la febbre. Allora Pagliardi. Io sono a casa con la febbre. Ieri mi sono bloccata. Beccata. La pioggia. E l'ho senza ombrello. E vedi? Poi ci si stende con l'umidità. Allora calma e gesso anche qui da noi. Sull'Appennino. Tosco-Emiliano ha nevicato. E allora. E ho detto che è tornato l'inverno ragazzi. Diciamo che si è affacciato l'inverno. Che non si era fatto vedere questo inverno. Adesso scavalca. Adesso abbiamo la primavera. Appossata. Con l'attaccato l'inverno. Che sovrasta. E l'inverno è un hater. Un hater. Un hater della primavera. Si povera primavera. Con l'inverno che sovrasta. E vabbè ragazzi. Ma poi arriva l'inverno e arriva subito l'estate. La primavera ormai ciao. Paola Pagliardi stasera fate una live. Al momento mi fate compagnia. Almeno sì. Certo Paola. La facciamo sicuramente. Alessandro. Buon pomeriggio. Ciao Alessandro carissimo. Questo è il mio amico di Bergamo. Allora vento d'estate. C'è mia figlia che ha 6 anni. Dice sempre. Top come Chiara. La potete salutare. Si chiama. No. Com'è che si chiama esattamente? Marina sarà. Marin. Marina. Ciao Marina. Vabbè io ti saluto con ciò Marin. Mi sono innamorata di Marina. More. Eh? Saluta la tua piccola fan di 6 anni che dice sempre Top. Come si chiama? Ma io dico. Tua mamma dice Marina e io dico Marin. Ciao Marin e Maria. Marin non Maria. No non Maria. Ciao Marin. Vero il genio. Una ragazza amora ma carina. Ah vedi si chiama Marin proprio. Marin ma vedi te? Allora Marin. Marin forse perché mia moglie sa meglio di me. Ciao Marin. Vabbè l'ha salutata. Ah grazie Chiara dice la mamma. Prego. Però vento d'estate scusami. In questo momento mi fai voglia di mare. Quindi cambia nick gentilmente. Metti vento tra. Ma si bello ne Federico. Vieni a lavorare a Milano. Il prossimo anno. Vero lavorare a Milano. Diventerò un siciliano emigrato. Perché? Dai. No Marin come si legge. Così come si legge Marin. Quindi è Marin. Ok grazie. Lunetta. Bene bene. Finalmente oggi rincomincia il campionato dopo una grossissima delusione della nazionale. Buon pomeriggio a tutti. Ringraziamo tutti i giocatori e anche l'allenatore. FKTUSHA. Buon pomeriggio a tutti. Davide signor Luciano e Chiara. Come state? Io bene. Anch'io. E anche mia moglie. La contessa saluta anche me. Chi è la contessa? Ciao mamma. Si capiscono. Si capiscono fra di loro. In valigia metterò solo cannoni e parmigiano. E vecchi sembra poco. Li ricomprerò queste. E per bene. Doc. Doc. Porta. Porta aerea qualcosa pure a me. Guarda. Paiani mia zia mi ha mandato una foto che è sui montagni. Sta levicando in bambra in bambra. Adesso la raggiungiamo tua zia. Ve l'ho detto che è arrivato l'inverno. Dovrà cambiare. Ma allora bisogna mangiare polenta. E usenti. E usenti scappati. Usenti scappati. Sono gli uccellini fatti in casa. Ah non so. Ci sono gli uccellini fatti in casa. E lo sapevi. E metti su uno stecchino. Un po' pancetta. Un po' di cose varie. Quelli sono gli uccelli scappati. In casa. Da casa. No da casa. Sono scappati da casa. E finiscono in bocca. Paolo Maiale. Andiamo tutti con gli slittini sulla neve. Vedi te. Non l'abbiamo fatto quando era il momento. Forse facciamo il tempo a farlo adesso. Roberto M. Anch'io sono come tecnico di ora che arrivi l'estate. Olivetta buon pomeriggio. Ma l'estate fa caldo. Meglio meglio meglio. Ma la polenta cosa sarebbe? No le patate non c'entrano. No è proprio. Farina di mais la polenta. Che poi si trasforma in. Grano turco. Macinato diventa farina. Eccolo la che poi. No cos'è? Farina di mais. Farina di mais la polenta. E poi la puoi mangiare polenta. Diciamo raffinata. Quella che non c'è dentro neanche un granulino. Come si chiama quelle cose? Stavo dicendo di scrementi. Per carità. Oh signor! Tipo le pagliuzze. Ma cosa ti sei dicendo? Come si chiamano quelle cose? E' tipo che si vede la farina che la chiamano taragna. E quella è la farina taragna? E' un'altra cosa. C'è dentro anche la crusca mi pare. Ma sì quella è marroncina. E' marroncina che c'è dentro anche l'involucro del chicco di mais. Ecco. Vabbè abbiamo fatto una descrizione un po' obrobiosa. A me la polenta piace fritta come la fanno a Napoli. Io so come la faccio fritta. Io a Napoli non l'ho mai mangiata e non so come la faccio. Io la faccio fritta come un parato. Te l'ho insegnato io forse. No. Qua non si è ancora mangiata la polenta. Quella già pronta magari. Guarda quella già pronta che avevo preso la Tigros. Che avevo preso quella con i funghi. Lasciamo perdere ragazzi. Elisa oggi si parla così. Abbrustolita con la gorgonzola. O anche con un po' il latte. Con il latte la polenta è latte. Guarda. Io la pucevo nel latte. La pucevo nel latte. Io l'unico modo per bere il latte. Con la polenta. Se no non posso. È vero Federico. Ma sei stato tu scusa. La pietra dello scandalo sei tu che hai proposto. Sei tu che vuoi portare quelle prelibatelle. Vale B. Buon pomeriggio. Con l'ombrello. Perché date piove. La veracuda. Col cinghiale. Quello non mi gusta molto. Io fine lugno ho già pronotato per Napoli. Prima volta in assoluto che ci vado. Ah hai già pronotato? Che di sopra che pare che ci sia qualcuno che parla bene della sua città e fa bene. Pedro. La canzone di Pino Daniele che bella. Luciana io rido ancora se ripenso alle alici pettinate. Eh sì io ripetino le alici. Separiamo la riga. Quella forchetta. No Vale B. Non stiamo parlando di vacanze. Stiamo parlando un po' del più del meno. Leggi cosa ho scritto. Bravo Federico. Col debole. Sui ceci. Ceci. Mettiti a ceci. Cos'è che hai scritto mamma? A pane e ceci tu. Ah ci sentiamo stasera. Ora vado a vedere una vita. Ciao. Ciao mamma. Ma chi è che vado a vedere mamma? Mia mamma. Ah bello affare. Cambi canale. Brava. Complimenti. Ti raggiungo anch'io. No Daniela no. Non ci lasciare. Cos'è che hai scritto Daniela? Quello. Ah questo. Si lei quando dice le sue cose. E vedo che va via. Però nasce un messaggio successivo. Quattro ancora dopo. E poi dice. Ho perso il programma in tv. Per colpa vostra. No dai mia la sei forte. Ieri sera bellissima. La è super divertente e simpatica. Con Luciana. Peccato per quella. Fa niente fa niente. No ma abbiamo superato la faccenda. Meno male. No. La cosa che ho superato io. E' proprio. Che un altro utente. Vergognosa. Questa volpe impagliata. Ciao ne. E non trerai mai più qua da me. A meno quando ti faccia qualche ridicolo. Quake. Poc. Queste cose qua. Se no per me. Hai chiuso. Sotto tutti i punti di vista. Instagram assolutamente via. Con te mai più contatti. Perché le persone così. Come te. Doppio giochiste. E anche triplo. Guarda. Fai bene a starci a me alla larga. A me soprattutto. Perché io non ho più. Nessuna cosa. Scusate un attimo. Né di vederti né di sentirti. Devo andare a fare una consulenza. Ah te la qui. Eccoti qua. Ce n'è un'altra. Ce n'è anche per te cara Cosetta. Ti saluto in diretta. E ti dico ciao. Non ti far più vedere. Che mi fai un favore personale. Me lo fai sto favore. Che mi vuoi così tanto bene. Ciao Cosetta. Vai cara. Se mi vuoi bene non farti più vedere. Ah si è fatta vedere. Si. Federico contagio. Si perché sono influenzabile. Sono. Una ridicola persona. Ma. Mi piace essere ridicola. Ragazzi. Eh. Addio Cosetta. Non farti più vedere. Perché tanto il tuo nick. Ce n'è sarà in giro con altri nomi. Lo so. Ti conosco mascherina. Chi sei. Comunque ragazzi. Io tra. A breve. Chiudo. Perché mi è arrivato il messaggio. Che devo andare a ritirare la spesa. Quindi per non far tardi. Però stasera. Eh. Oggi. Spero di farlo uscire. Blog. E live. No. Spiego bene a Roberta. Che quella cara persona. Volpe impagliata. Ha avuto quella vigliaccheria. Di dirmi. Ma io non glielo ho detto. Di pubblicarla. La. La canzoncina. Io avevo. Chiesto. Pubblicamente. Chi c'era presente. Lo sapeva. Mi raccomando. Non scrivere. Qualche parolaccia. Assieme. Eh. Mi raccomando. Che sia una cosa che si possa sentire. Sì. 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 Prima cosa. Apro il coso. In fiducia. E questo vuol dire. Attenzione. Fidarsi delle persone. Che non si conoscono. Sono molto pericolose. Questa. Cosa. Cosa. Cosa aveva fatto. Aveva fatto il copyright. E lo sapeva. Io no. Da. Da. Ignorante. Io non lo sapevo. Allora. Vabbè. È inutile che andiamo avanti. Qua adesso. No. Siccome. C'era gente che non era presente. E siccome quella ci lavora sopra poi. insieme ai suoi canalati uguali. Vabbè ragazzi. Ci vediamo stasera. Ciao a tutti. Buon proseguimento di giornata. Ciao. Ciao.